ehi la ciao amori miei eccoci qua allora oggi faccio una pastella perché voglio fare due carciofetti fritti e una zucchinella fritta allora questi sono carciofi sono quelli congelati è che io ho fatto scongelare lo sciacquati bene l'ho asciugati e adesso stanno qua e questa è bollina tagliata a filetto allora iniziamo allora qui è un nuovo praticamente è un albume è un rosso nuovo vedete questo ci ometto che non mandarlo sprecato ok allora questa è 250 ml di acqua però siccome io vado sempre un po a occhio non vediamo quanto ce ne vuole poi lo dico allora questa è 200 grammi di farina questa è la 00 che io vabbè insomma metto qui piano piano l'acqua ce va tutta in poche parole dai io faccio occhio se serve ci mettiamo pure l'altra ok adesso metto il torno che ecco l'altra giratina latina adesso metto un cucchiaino di lievito quello per pizze salate ok per focaccia e giro tutto per benino mamma mia che pastella che c'è sta fa buona allora e adesso metto l'albume come montato ecco fatto ecco qua piano piano ecco fatto ecco adesso giro con questa va dal basso all'albume eccola qua guardate che bella vedete la mia crema ecco adesso la faccio riposare mezz'ora va bene amori va bene cara eccolo guarda il canavaccio ce l'ho qua ecco così ma coprimo aspettate ecco vai ecco fatto la lascio qua mezz'oretta intanto me lavo l'impiccetti passata mezz'ora eccola qua vedete che bella e adesso i garciofetti ci mettiamo dentro ma qui si aggiunta pure la melanzanina e raga stava sola sola allora andiamo a frigge girderè namo va dai ecco qua olio bello caldo eccolo qua guardate che belli questi carciofetti ecco fatto ah tiè si è messa in posa col fritto suo la signora qua allora guardate questa è una pastella favolosa è scrocchiarella ma nel frattempo è morbida ok allora io non mangio un carciofino è già partita non resisteva eh com'è girderè mamma mia mamma vedeva qua cacciofi zucchine melanzani mamma mia che spettacolo raga mamma mamma mia girderè ma te così eh mamma mia ci fai impazzire ci fai un po' di sale da quello che si è capito che era buona pure senza sale comunque melanzana eh sì perché se no eh si è mangiata il carciofetto ma è una dentata melanzana e tra un po' tocca la zucchina bella anduvai tra un po' tocca a te mmmm ecco guardate qua buona girderè sei sicura? che ne vado a assaggiare la zucchinella qua? tanto mo sanna mamma gnatta mamma mia raga c'è un profumo che vuoi di cappa mi raccomando fatele perché la pastella è favolosa vedrete quando la fate mamma mia girderè mi raccomando allora amore mio è piatto ricco mamma mia è piatto ricco e mecefico e che ce fai? e finte girderè e no 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 e invece eh? mamma mia senti che roba ragazzi poi quanto resiste eh? piatto ricco mecefico mecefico allora ti da un bacetto a tutti amori ciao bacio grande dalla cucina di Gilda e mi raccomando se la fate sono contenta sempre dal cuore baci grandi a tutti ciao